Buon pomeriggio, ben trovati in diretta dagli studi di Telebari. In primo piano la sanità con i ritardi negli interventi programmati nel reparto di oculistica del Policlinico di Bari, dove sono stati eseguiti i lavori di adeguamento del padiglione. Adesso è tutto pronto e la direzione si è già attivata con un piano straordinario di recupero delle liste di attesa. Sentiamo. Lunghe liste di attesa per i pazienti che hanno prenotato interventi nel reparto di oculistica del Policlinico di Bari, dove da mesi sono in corso lavori di ristrutturazione dello stabile con inevitabili code nelle operazioni programmate. La direzione del reparto è al lavoro per recuperare i ritardi con interventi straordinari anche di sabato mattina. Sì, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, sfruttare tutti gli spazi disponibili, operare tutti i sabati mattina, ovviamente autorizzati dalla direzione sanitaria, anche perché siccome questo orario supera la normale attività di 38 ore, molto personale, gli anestesisti o infermieri vengono pagati a parte, per cui c'è da mettere in moto tutta una catena che è difficile da mantenere. Sono ancora molto lunghe le liste di attesa? Praticamente in questo mese sicuramente finiremo giugno e possiamo iniziare finalmente con i pazienti che hanno fatto il primo accesso a luglio. Il nuovo padiglione è pronto, i lavori sono terminati, possibile apertura entro la fine dell'anno? Il padiglione è terminato già da tempo, noi stiamo soltanto aspettando gli ultimi atti certificativi che ci serviranno poi per rendere fruibile il padiglione in toto, ma il padiglione sarebbe già fruibile e utilizzabile se ci fossero queste certificazioni e presumo che nel giro di pochi giorni per la fine dell'anno riusciremo a concludere l'iter di certificazione. E adesso gli aggiornamenti della cronaca cittadina con Tiziano Tridente, dalla postazione social Tiziano, buon pomeriggio. Sì, eccoci Cristina, siamo nella sezione cronaca del nostro sito perché i carabinieri di Bari ieri sera a Toritto hanno arrestato il 44enne rumeno Gheorghe Busuyok, l'uomo pregiudicato e ritenuto responsabile dell'omicidio del connazionale Mialcea Vasile, 46 anni, avvenuto il 12 maggio scorso in un casolare nelle campagne di Carbonara. Le indagini hanno consentito di far luce sulla morte del 46enne ucciso a coltellate al termine di una cena davanti a due donne, la compagna del presunto assassino e quella della vittima. La testimonianza di quest'ultima e gli elementi raccolti dai militari sulla scena del crimine quella stessa sera portarono all'arresto del 44enne. Pochi giorni dopo però la donna ritrattò le sue dichiarazioni rendendo più complesse le attività degli inquirenti e determinando la scarcerazione dell'indagato. Gli approfondimenti eseguiti nelle settimane successive dalla scientifica, in particolare su vestiti e scarpe che il 44enne indossava quella sera, hanno però scacciato via ogni dubbio. Prove che hanno portato la procura a richiedere al GIP l'emissione di un provvedimento di cattura. A te. Grazie Tiziano, è una immagine inedita di Paolo Borsellino, quella che emerge dal libro di Pietro Grasso. Paolo Borsellino parla ai ragazzi, presentato questa mattina nell'Istituto Comprensivo Massari Galilei di Bari, il senatore ed ex magistrato ha ricordato di fronte ad una platea numerosa di studenti, giudice ucciso nel 1992 per mano della mafia e il suo carattere allegro e gioviale lontano dai riflettori prima dell'attentato al collega e amico Giovanni Falcone. Dall'ex magistrato inoltre è arrivato un accorato appello a non abbassare mai la guardia di fronte alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose. Cambiamo argomento, Oropan conquista il premio Industria Felix riservato alle imprese virtuose, l'azienda di Altamura leader nel settore dei prodotti da forno e panificazione e tra le top 6 aziende italiane del settore agroalimentare. Vediamo. La seconda edizione del premio Industria Felix, organizzata come di consueto dal trimestrale di Economia e Industria Felix Magazine in collaborazione con Servet, Università Luis, Guido Carli, Associazione Culturale Industria Felix con i patrocini di Confindustria e Simest, ha visto la partecipazione di numerose imprese a livello gestionale, affidabili finanziariamente secondo Servet e talvolta anche sostenibili. Tra queste anche l'Oropan, tra le top 6 aziende italiane del settore agroalimentare, merito di un modello imprenditoriale di produzione, esportazione e valorizzazione del Made in Italy. Siamo davvero onorati di ricevere questo prestigiosissimo premio e un riconoscimento autorevole alla nostra capacità di implementare scelte strategiche in un modello imprenditoriale in grado di produrre, di creare e mantenere nel tempo posti di lavoro e esportare, valorizzando così il Made in Italy nel mondo. Questo genera non soltanto importanti performance di bilancio, ma anche permette di innalzare il vantaggio competitivo per affrontare le sfide del mercato globale. Tutto questo è stato possibile grazie alla ricerca, all'innovazione di prodotto, di processo, ma anche di cultura di impresa, valorizzando il capitale umano, valorizzando il territorio a cui noi siamo fortemente legati per Mission e attraverso un modello di business sostenibile nella consapevolezza che non ci può essere sviluppo se non c'è crescita sostenibile. Questo ci ha permesso di raddoppiare il fatturato nel giro di pochi anni, incrementare la forza lavoro di oltre il 70% e conseguire anche quest'anno performance importanti, soddisfacenti in termini di incremento di fatturato. Quindi grande soddisfazione per essere tra le 15 aziende premiate pugliesi su 160 a livello nazionale e tra le sole 6 aziende del settore agroalimentare. Torna sul palco del Teatro Petruzzelli, le strade di San Nicola, l'evento spettacolo che riunisce artisti nazionali sotto il segno della solidarietà, l'appuntamento l'8 dicembre alle 20. Artisti nazionali uniti nel nome della solidarietà, Noemi, Serena Brancale, Audio 2, Gianni Cinelli, Terra Ross, sono solo alcuni degli ospiti che si alterneranno sul palco del Teatro Petruzzelli la sera dell'8 dicembre, ma i veri protagonisti restano loro, i progetti sostenuti a favore delle persone più fragili. Torna per il settimo anno consecutivo le strade di San Nicola, l'evento spettacolo dell'omonima federazione che riunisce tante associazioni che operano quotidianamente sul territorio. Ciao Vinni, Marco Baleno, amici di Michele Visaggi, ne sono solo alcuni esempi. Sono felice di poter tornare dopo un anno che è stato un anno particolare, sono contentissimo di avere un cast ai livelli degli altri anni, sono contentissimo di avere accanto a noi tutte le 12 associazioni che ci sono sempre e sono altrettanto contento di poter portare avanti altri 4 nuovi progetti che saranno molto importanti. E sì, sono quattro gli obiettivi di quest'anno. Emozioni in musica, il progetto presentato dall'IP di Bari in partnership con l'associazione Musica in Gioco che prevede anche incolvolgimento di istituti scolastici. Un parco altro, il progetto invece del Rotary Club Bari Mediterraneo per la valorizzazione dell'area protetta di Lama Balice con il coinvolgimento di persone diversamente abili. Smiling Shock che supporterà i bimbi tra i 5 e gli 11 anni per prevenire fenomeni di bullismo e infine Orto Donni Santi che favorirà la socializzazione e l'integrazione delle persone con disabilità grazie ad uno stile di vita ecosostenibile. Tutti insieme dunque all'insegna della solidarietà e se è vero che squadra vincente non si cambia alla direzione artistica ritroviamo Fabiano Marti in conduzione, Mauro Pulpito e Alessandra Bucci. Una coppia non è mai stata confermata? Ti lascio immaginare cosa fossero le coppie prima di questa. Sono il bastone della sua vecchiaia, diciamo la verità. E chi è? No, la vecchiaia, non mi ricordo. Quali sono le novità di quest'anno? La conduzione no. La prima novità è che la coppia di conduttori non sono una novità e questa è già una novità, l'hai detto tu. E poi non è una novità nemmeno il cast che è di così altissimo, di così alto profilo. Intanto mi permetto di precisare anche rispetto a cui mi esprimo io per Alessandra perché è pure brutto che sta conducendo il telegiornale e si manda in onda mentre si interviene e disdicevole. Uomo non ci sono. No, brutto, pensa adesso a te che stai in studio e ti passi la linea. Sì, infatti. C'è qualcosa che, insomma, è un cortocircuito. Nasce a Bari il nuovo modo di fare commercio in linea con il mondo internazionale della moda. Vediamo. Si chiama Pop-up il progetto di quadra che amplia le vetrine di Via Melo con un nuovo spazio dedicato alle aziende di abbigliamento e calzature che intendono proporsi sul mercato. Potranno esporre i propri brand nella nuova area inaugurata ieri sera alla presenza del sindaco Antonio De Caro insieme con l'assessore alle attività produttive Carla Palone. Un nuovo modo di proporsi sul mercato dichiara l'amministratore unico dell'azienda Giampaolo Galasso ispirato al modello di società di servizia alle imprese. Abbiamo creato questo progetto che è un po' in linea con tutto il mondo internazionale della moda dove praticamente oggi i marchi hanno bisogno, diciamo, di aziende affermate del territorio che ovviamente vivono il territorio in maniera completa proponendoci come intermediari con loro quindi creando degli spazi finalizzati che permettano a queste aziende anche emergenti di proporsi quindi abbiamo creato un negozio che abbia degli spazi singoli dove ognuno pagando, diciamo, delle location temporanee riesce a proporsi alla clientela. E adesso ci spostiamo nell'area metropolitana con i servizi dei nostri inviati. La situazione epidemiologica a Santeramo torna sotto controllo le parole del sindaco Fabrizio Baldassarre nel servizio di Michele Denora. Una situazione che sembrava quasi fuori controllo quella a Santeramo in Colle circa l'andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 dopo settimane di crescita anomale dei contagi rappresentando un unicum nell'area metropolitana per le settimane passate i numeri tornano sotto controllo sia per il rispetto delle norme da parte dei cittadini sia per l'incremento delle somministrazioni vaccinali. A fare il punto su questa situazione è stato proprio il primo cittadino Fabrizio Baldassarre. Abbiamo vissuto delle settimane piuttosto critiche con anche circa poco più di un mese fa la chiusura di due plessi scolastici della scuola media e con diverse classi in quarantena sia con docenti che con alunni in quarantena. Come è noto da circa due settimane anche la vaccinazione di Santeramo è stata inserita nel CUP nel sistema regionale di prenotazione quindi è possibile vaccinarsi per la prima, la seconda e la terza dose qui a Santeramo. Quindi questo spero che possa dare una prospettiva di fiducia e di speranza per affrontare quella che ormai tutti definiscono la quarta ondata. E adesso ci spostiamo ad Andria dove ieri sera è stato inaugurato il Festival della Legalità. Ce ne parla Francesco Caselli. Sei giorni di programmazione dedicata. È la prima edizione del Festival della Legalità che si terrà ad Andria dal 25 al 30 novembre. Una serie di incontri inaugurati nella serata di ieri con il saluto istituzionale del sindaco Giovanna Bruno del prefetto della BAT Maurizio Valiante e la testimonianza tra gli altri interventi di Pinuccio e Lalla Fazio i genitori di Michele, giovanissimo barese ucciso vittima vent'anni fa di un agguato della malavita barese. La criminalità uccide tutti. È il claim utilizzato per questo primo convegno per stigmatizzare con forza qualsivoglia tipologia di violenza ribadendo la necessità fondamentale della presenza dello Stato all'interno delle città. Discutere di legalità vuol dire quindi rilanciare diverse idee e valori per l'incedere spedito verso il recupero di una pratica reale di comportamenti pertinenti ad una società civile e vivibile in grado di ribadire i principi cardine sui quali costruire crescita sociale e culturale di un paese. Una vera e propria rivoluzione culturale che forze dell'ordine, autorità politiche e militari associazioni e cittadini sono chiamati ad alimentare. È stato inaugurato questa mattina il nuovo anno accademico dell'Università LUM di Casa Massima. C'era per noi Francesco Russo. Un'università ROC che non vuol dire solo vivace ma acronimo per sintetizzare la mission della LUM di Casa Massima ritornare sulle competenze certificate per investire sui giovani e sulla sinergia con il mondo delle imprese. È chiaro il progetto alla base del nuovo anno accademico aperto con la lezione magistralis sul rapporto tra i fondi Next Generation U e la formazione accademica. Tanto il PNRR vede le università come beneficiare ma anche come una parte attiva del sistema e le università dovrebbero portare avanti un dibattito che fa crescere il paese. In questo credo che l'obiettivo più grande è anche pensare agli obiettivi stessi del PNRR che sono ridurre i divari colmare quelle che sono le differenze nel paese quindi un riequilibrio territoriale che è tra nord e sud del paese e un riequilibrio nel genere quindi colmare il divario di genere e colmare anche quello che rappresenta lo sviluppo in termini dell'occupazione giovanile. 2022 è anno decisivo per gettare le basi dei prossimi 20-30 anni per la Ministra degli Affari Regionali e Autonomia e Maria Stella Gelmini che indica nel sostegno alla ricerca alle innovazioni, ai giovani, al welfare studentesco nella lotta alla denatalità e nel taglio delle tasse e le sfide del governo per dare peso al talento, alla competenza e al sapere. La LUM è una delle realtà universitarie italiane più interessanti, più dinamiche ha consentito alla Regione Puglia di aprire una facoltà di medicina collegata al Miulli di Acquaviva perché studiare in Puglia significa lavorare più facilmente in Puglia. E per questa edizione del Telegiornale è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo diamo uno sguardo alla giornata di sabato perché nuove zone di bassa pressione dal nord atlantico raggiungeranno il Mediterraneo con instabilità sull'Italia specie la parte occidentale del nostro paese andiamo al dettaglio perché appunto ecco qui con i colori blu delle precipitazioni che investiranno Sardegna parte di Sicilia e poi tutta la parte tirrenica rovesce temporali a più riprese piogge anche tra Lombardia e regioni nord orientali nel dettaglio in sintesi la mappa con delle precipitazioni che a tratti bagneranno Lombardia e Nord-Est neve in montagna a quante medio-basse e poi i piovaschi temporali su alcune zone tirreniche in parziale estensione al basso adriatico dettagli ulteriori approfondimenti li trovate scaricando l'app di Trebi Meteo grazie a tutti i nostri spettatori